la donna dipinta in veste di venere dea della fertilità non è un'immagine ideale ma il ritratto reale di una donna non conosciamo il suo nome ma siamo certi che fu una donna amata da colui che la ritrae appunto come dea dell'amore e raffaello che non poteva sposarla l'ama così tanto che decide di essere per sempre con lei in questo quadro al suo braccio sinistro